Ci sarà Gilli D'Alessio tra gli ospiti di stasera della trasmissione di Rai 1' Ora o mai più Il cantante potrebbe dotare con Jessica Morlacchi, la collega classe 1987, la più giovane tra i concorrenti in Italia, l'indiscrezione fa pena grazie a una foto postata proprio dall'ex cantante di Gazzosa sul proprio profilo Instagram e subito i suoi follower si sono spatenati, Jessica Morlacchi e Gigi D'Alessio, questo ha ora o mai più Per il cantante Courtney Teo è la prima volta al programma condotto da una news, nel corso del quale Jessica Morlacchi si sta facendo davvero valore, giocandosi nel migliore dei modi e la chance che le viene Un regalo meraviglioso, grazie Gigi D'Alessio, scrive la cantante portando una foto sul calco, con il collega che si sta esibendo e lei che lo guarda con un mic, con un nome, pronto evidentemente a interagire I suoi follower hanno provato a pronosticare quale brano i due potrebbero cantare insieme, due i brani iniziati, non mollare male, a tema con la casmazione, oppure un nuovo bacio, i rumori, in tanti hanno mostrato il tuo spazio, ho indodinato, non vedo l'ora di